Chi la dura la vince dopo quattro mesi di insistenze e solleciti con audizioni ed interrogazioni in consiglio regionale finalmente abbiamo ottenuto dalla ASL di Lecce la fornitura di dispositivi aggiornati ai pazienti diabetici per la misurazione della glicemia lo afferma in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo della Puglia Domani e presidente del Movimento Regione Salento già a marzo scorso continua segnalammo questa anomalia rispetto alle altre aziende sanitarie pugliesi oggi convocato in audizione in commissione sanità su nostra richiesta il DG dell'ASL Rollo ha delegato il responsabile della gestione patrimonio il dottor Dimastro Giovanni da lui abbiamo appreso che proprio tre giorni fa è stata firmata una determina che dispone l'acquisto di 300 dispositivi del tipo richiesto con un impegno di spesa di 400 mila euro un fabbisogno che dovrebbe bastare per un anno nell'attesa che parta anche per questi dispositivi la procedura di acquisto centralizzata in tutte le ASL della Regione su questo l'assessore Lopalco si è impegnato a verificare la lista dei presidi ancora non acquistati con questa gara unica che garantisce trasparenza, uniformità di fornitura e risparmio in termini di costi e tempo ma oggi, conclude Pagliaro, è il momento della gioia per un risultato che presto solleverà i genitori dei bambini diabetici dall'incubo di non poter dormire di notte per vigilare sui valori glicemici dei loro piccoli il dottor Dimastro Giovanni ha annunciato che l'ordine di acquisto partirà entro un paio di giorni grazie